Si parla di giustizia, certamente lei ha una lunga esperienza in questo campo. Ritiene che il carcere oggi sia luogo di giustizia? È una domanda difficile. Il carcere è più che altro un luogo di contenimento di un disagio esistenziale che non ha sempre a che fare con la commissione di reati. La popolazione detenuta, direbbe Alessandro Margara, è la clientela di sempre. Sono persone che hanno per il 90% dei casi dei problemi di marginalità, di disagio. Allora la prima domanda da farsi è questa. Sì, è giusto che in carcere ci finiscano sempre gli stessi perché i poveri, tra virgolette, delinquono di più? Certamente questa non è la risposta. O perché il nostro sistema è organizzato in modo che il carcere sia per i più poveri? E questa è la grande ingiustizia che io ho sempre cercato di combattere. offrendo opportunità. Secondo lei i meccanismi di riduzione di pena, di permessi che talvolta suscitano allarme sociale, sono comunque strumenti utili? C'è una verità che i numeri ci danno. Il carcere è criminogeno e il tasso di recidiva di chi sconta in carcere fino all'ultimo giorno della propria pena è di circa del 75%. Quindi il carcere produce fatalmente altra recidiva. Quindi non serve alla sicurezza sociale, se non in limitatissimi casi di persone davvero pericolose che devono essere davvero escluse dal contesto. Una pena scontata sul territorio è e resta una pena, ma è una pena che abbassa i tassi di recidiva. Ed è questo che oggi ci interessa. Ed è questo oggi il mio lavoro di direttore generale dell'esecuzione penale esterna. Quindi questa è la sua convinzione come direttore? Non è solo la mia convinzione, è una convinzione supportata dai numeri. Ecco, quindi l'eccesso di risposta carceraria crea altra criminalità. Ed è una cosa rispetto alla quale bisognerebbe poi anche riflettere. Quello che invece abbassa davvero i tassi di recidiva, quindi produce sicurezza sociale, è una pena scontata sul territorio che è e resta una pena. Non c'è bisogno di escludere le persone dal contesto sociale, non c'è bisogno di mortificarle nella dignità per punirle. Si può punire salvaguardando la dignità delle persone.